Unica, splendida, ma che storia è questa qua? Prova a viverla ogni giorno e le più bella si farà E' la tua storia, è una bella storia in cui crescerai Ed il bello è che anche tu la scriverai Te lo prometto, è un'avventura Il tempo è buono, parti con noi C'è un posto che ti aspetta se vuoi E se ti fidi lo troverai Apri le braccia al cielo E riempiti di blu Unica, splendida, ma che storia è questa qua? Prova a viverla ogni giorno e le più bella Ciao ragazzi, informiamo il nostro oratorio di San Benedetto dal 10 giugno al 10 giugno Vieni qui ragazzi Le iscrizioni saranno aperte dal lunedì 3 giugno Dalle 17.30 alle 19 Dal lunedì per tutta la settimana Vi aspettiamo! E non sarai solo Bye bye! Cammineremo tutti con te E scopriremo mentre viaggiamo Che questa è la cosa più bella che c'è Che questa è la cosa più bella che c'è